Lutto Mediaset per la morte di Giacomo Zoppi. Per tutti Jack, storico collaboratore di Mediaset che nelle trasmissioni televisive aveva il compito di scaldare il pubblico. A dare la triste notizia è stato Gerry Scotti con un posto su Instagram postando una fotografia che li vede insieme. Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai.